Resi, fermate. Ringrazio di Dio, è tua cosa semplice, eh. Punto con scasso in una pellicceria di via Fornovo. Macchina 5 e 7 in via Fornovo. Indossare giù potenti proiettili. Allora. Ecco, appunto. Dunque, io stavo rompendo la seratura di Volkswagen. Bene, poi, l'aveva stata confessa. No, che conversa? Non mi lascia mai finire, scusi. La seratura era automaticamente raccolta... Cosa è successo? C'è giunto! Cos'è che hai combinato? Eh? Hanno sfondato il posto di blocco in via Appia. La macchina dei banditi mi ha colpito prima che potessi reagire. Rifattati i blocchi e ti furtino salario! Due autoambulanti di... Due autoblinde e un'autoambulante sulla via Appia di volata! Che domino! Tu cosa fai ancora qua? Oh, mi dichiaro. Un momento. Mi chiaro proprio voi. Una cosa alla volta. Dunque, io lavoro nel ramo furti. Dove stasera? Lo sappiamo! No, che ha capito, nel ramo furto assicurazione. Adesso mi sono messo invece per colto mio. Io faccio anche preziosi, pellicce... Piantalo con le mani e come ti chiami! Pranta! No, no, se il commissario... Pranta! Il telefono all'altro, è questo. Risparate il fuoco! Tra poco vi mandiamo rinforzi! Aspettate! Comandi! Una pattuglia! Con ambi pesanti, in piatti in merito! Terroristi turchi e nazionalisti armeni si stanno sparando contro! Cosa dobbiamo fare? Sparate contro tutti e due! Così parano! E facciamola finita con questa delinquenza! Allora, basta! Chi sei? Sono milanese. Vuoi prendermi per il culo? No, signor commissario, per te. Milanese tu con quell'accento? No, veramente, io sono pugliese. Allora, perché hai detto milanese? Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome. Nato dove? A Torino. Allora, sei torinese! No. Mio padre era ferroviere, allora si è spostato da una città all'altra. Io sono nato a Torino, però quando siamo tornati a Biceglie, mia madre... E non la pianti di dire stronzate! Ti sbatto alla ginara! Parola di commissario genovese. Ah, lei genovese? Cazzo dici? Io sono di Bologna, genovese è il mio cognome. È finito sto fermare siciliano? Signor sì? Siciliano? Palermo-Catania. No, perché esiste una lotta fra le due fazioni che dure da secoli e secoli. Ma no, mi son veneto, veronese. Ah, veronese. Ha capito il commissario? Basta! Dalla Brescia, Balfitano! Toglietemi dalle palle, sto pugliese di merda! Ma, sul commissario, ma perché... Ma io mi entri a dirloata! Fatto digitali! Le potenze si vedono! Io non c'entro in questa situazione. Perché non mi lasciate mai finire un discorso? Avanti, guarda la mano. E che è questo? Cittiri, fai silenzio e non commentare. Avanti, spingi, spingi, spingi! Con forza! Chi siete, gemelli voi due? Perettoso. Come ti chiami? Valerio Milanese, molto lieto. Ma cosa fai? Portatelo subito a fare la foto, via! Non credete, non credete tutti, guardatevi, mi ritrorete il cervello! Sono visite... Scusa, che devo fare adesso? Statti zitto, che adesso ti faccio una bella foto. Ma io non ho mica ammazzato nessuno, non ho svaliggiato, mica un sequestro di persone. Ti ho detto, stati zitto! Dove devo guardare? Guarda un po' con l'uccellino. Ha, 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 ha! Oh! Ah!